allora il quesito numero 4 dice questo scrivere giustificando la scelta effettuata una funzione razionale y uguale a s con x fratto t con x dove s x e t con x sono polinomi tali che il grafico della funzione incontri la 6x nei punti di ascissa meno 1 e 2 e sia adesso tangenti in quest'ultimo punto abbia sintomi verticali di equazioni x uguale a meno 3x uguale a 1 passi per il punto p di coordinate 7 e 10 rappresentare qualitativamente dice il grafico della funzione trovata quindi si chiede una rappresentazione qualitativa quindi non uno studio dettagliato della funzione questo è importante io qui faccio un appunto dico ricorda che il grado del polinomio che definisce una curva algebrica è detto ordine della curva noi parliamo di polinomio e quindi ordine della curva parliamo di grado di polinomio una retta generica del piano interseca una curva piana d'ordine n io parlo di un polinomio pensiamo per esempio alla parabola y uguale ad ax quadro più bx più c è un polinomio di secondo grado una curva algebrica incontra questa curva parabolica in due punti in n punti in questo caso nella parabola 2 qui abbiamo indicato un polinomio che ha avendo indicato quattro punti appunto di quarto grado in quattro punti più 1 più 2 più 3 più 4 questo è importante perché quando parliamo di una cubica dobbiamo ricordare un'equazione di terzo grado che è intersecata da una retta naturalmente in tre punti svolgo deve essere y uguale abbiamo detto prima s con x fratto t con x e deve incontrare questa funzione razionale l'asse x in questi punti meno 1 e 2 e in x uguale a 2 in quest'ultimo punto deve essere tangente deve avere in x uguale a meno 3 x uguale a 1 due asintori verticali sono dei dati delle richieste che fa il testo il quesito e deve passare per il punto p di coordinale 7 10 qui l'aluno deve un po ricordare le funzioni razionali fratte ricordare che quando si individua gli asintori verticali si guarda il denominatore quindi se noi scriviamo diciamo questa funzione in questo modo sono certo che x uguale noi poniamo come c con x meno 1 diverso da 0 x più 3 diverso da 0 quindi x uguale a 1 x uguale a meno 3 sono due asintori verticali quando io indico la funzione in cui sono presenti due asintori verticali una funzione fratti in cui al denominatore ho questi due fattori x meno 1 per x più 3 inoltre le intersezioni ricordiamo che si ottengono quando si pone la funzione al sistema con l'equazione dell'asse x che è del tipo y uguale a 0 e si pone il numeratore uguale a 0 quindi ponendo k per x più 1 per x meno 2 uguale a 0 questo numeratore si annulla quando x uguale a meno 1 e x uguale a 2 e quindi si soddisfa anche la condizione diciamo che interseca l'asse x meno 1 e 2 l'unico problema che si pone qual è che deve passare per il punto p di coordinare 7 10 quindi qui pongo questo k che sicuramente sarà un parametro che ci darà un valore numerico affinché questa curva passi per il punto p di coordinare 7 10 ma non è solo l'unico dato che viene chiesto si chiede che nel punto di coordinate 2 0 quindi questo punto in terza l'asse x la rete l'asse x sia tangente a questa curva e qui si fa un appunto l'appunto è questo quindi k è un parametro che determina imponendo il passaggio per il punto p quindi appartenente alla curva algebrica nota bene vediamo che x meno 1 per x più 3 poste al denominatore indicano la presenza di due asintori verticali la retta x uguale a 1 e x uguale a meno 3 questo la 1 lo ricorda perché ha già affrontato lo studio di funzioni razionali fratte e sa che quando pone le condizioni di esistenza di queste funzioni già da per scontato che il denominatore quei numeri che noi poniamo diversi da 0 sono proprio gli asintori verticali poi e qui scrivo x diverso da 1 e x diverso meno 3 la presenza di questo fattore al numeratore ricorda che se facciamo sistema con l'asse x ponendo il numeratore uguale a 0 troviamo i punti di intersezione x uguale a meno 1 e x uguale a 2 l'unica particolare che sfugge è che nel punto 2 deve essere tangente qui interviene un appunto che facciamo subito ricorda ecco questo è l'appunto che una retta a x più y più c uguale a 0 è tangente in p ad una retta r quindi nel senso qui correggiamo che la retta di equazione x è tangente in p ad una curva chiamiamola gamma qui è scritto c'è un errore stiamo parlando di tangenza non a una retta e tangente in p alla curva gamma se c'è molteplicità 2 in quel punto ripeto la nota è questa ricorda che una retta che ha questa equazione è tangente in un punto p ad una curva questo è il punto p se c'è molteplicità 2 in quel punto quindi io devo avere in un punto una molteplicità pari a 2 cioè devo avere due intersezioni in questo punto come fare un sistema tra una parabola e una retta e scoprire che abbiamo due soluzioni coincidenti in quel punto c'è una molteplicità 2 come si traduce questa molteplicità ponendo x meno 2 al quadrato chiaramente all'inizio del testo io questo non l'ho posto perché ho preferito condurre l'alunno al ragionamento sequenziale e quindi ossia la retta deve avere in p due intersezioni questo significa che il numeratore va scritto in questa forma x meno 2 al quadrato dove 2 indica appunto l'esponente indica la molteplicità della radice x uguale a 2 ricordiamo si chiamano zeri o radici le intersezioni della curva con l'asse delle x la funzione cercata è pertanto la seguente quindi questa è quella che soddisfa le richieste del problema ripeto ha due asintori verticali x uguale a 1 x uguale a meno 3 in terza e l'asse x nel punto meno 1 e 2 e nel punto 2 anche tangente questo ce lo dice il fatto che elevo al quadrato questo fattore e poi deve passare il punto p di coordinate 7 e 10 che in questo interverrà il valore di k a soddisfare questa condizione. trovo k imponendo il passaggio di p cioè la partenza del punto p alla curva gamma qui porrò al posto di y 10 al posto di x sospisco il 7 sviluppo e l'eguaglianza verificata solo se k è uguale a 3 quindi se k è 3 il primo membro uguale al secondo membro quindi questa è la curva cercata e possiamo dire che a questo punto si procede a una rappresentazione qualitativa cioè uno deve fare lo studio del grafico dettagliato ma deve limitarsi indicativamente a rappresentare l'andamento del grafico chiaramente diciamo che a questo punto noi abbiamo che le condizioni di distanza sono x diverso da 1 e x diverso da meno 3 gli asintori verticali sono le rette x uguale a 1 ed x uguale a meno 3 qui dobbiamo porre il segno meno il segno noi poniamo come segno x più 1 maggiore uguale a 0 per il numeratore e al denominatore abbiamo x meno 1 maggiore di 0 e x più 3 maggiore di 0 facciamo lo studio del segno ricordiamo che è una funzione fratta e individuiamo gli intervalli in cui la funzione positiva negativa che appunto utilizziamo per campire le parti di piano in cui non rappresentiamo il grafico e lasciare in bianco quelle in cui rappresentiamo il grafico ecco questo è il grafico vediamo che il grafico ha questo andamento quindi ho riportato i punti in cui abbiamo asintori verticali 1 e meno 3 lo diceva il testo come dato iniziale diceva che nel punto 1 e meno 3 abbiamo un asintori poi abbiamo le intersezioni in meno 1 e in 2 in meno 1 abbiamo visto che la curva interseca l'asse x si vede che passa in 2 la interseca due volte perché l'asse x è tangente qui possiamo mettere anche i nomi ricordiamo che l'asse x è tangente alla funzione del punto 2 e qui poi abbiamo invece due asintori verticali quindi qui abbiamo questo comportamento vicino l'asintore verticale ho cancellato le zone in cui non rappresento il grafico e ho lasciato in bianco quelle in cui le rappresento in base allo studio del segno sommariamente il grafico è questo passa per il punto meno 1 vicino alle asintori verticali al comportamento che vediamo quindi è asintotico il comportamento per x uguale a meno 3 a sinistra e poi va a meno infinito ecco questo è quello che chiede il testo il quesito quindi il quesito chiede una rappresentazione qualitativa l'alunno non deve fare altri calcoli ma limitarsi a indicare sommariamente il grafico utilizzando elementi essenziali di rappresentazione e si chiede di indicare la funzione praticamente cercata che soddisfa le condizioni del problema fine della video lezione qualità